Ciao a tutti, mi chiamo Sofia Tomei, ho 18 anni e vengo da Vigonovo in provincia di Venezia. Sono una studentessa e studio sull'indirizzo sulla moda. Mi descrivo come una ragazza semplice, timida anche se non sembra e solare. Da grande vorrei tanto diventare appunto una modella oppure lavorare sul settore comunque della moda. Essendo una ragazza molto timida spero appunto di aprirmi e riuscire a credere di più in me stessa. Ho scelto Miss Venice Beach appunto per far emergere il mio talento che è appunto la danza. Infatti ho praticato danza classica, moderna e contemporanea per sette anni.